Siamo al Mobile World Congress 2016, evento prendiera di Huawei, siamo in compagnia del direttore esecutivo di Huawei Consumer Italia, Daniel De Grandis, che ci parlerà del nuovo prodotto lanciato oggi sul mercato, ovvero il MECU, una nuova fascia di prodotto che adesso lui ci va a raccontare. Sì, Huawei è un'azienda estremamente sensibile a quelli che sono i nuovi trend del mercato e ovviamente al di là del nostro business tradizionale legato al mondo degli smartphone e dei tablet, abbiamo esplorato nel passato i wearable per arrivare con l'annuncio di oggi a toccare il mondo del due in uno, quindi il mondo dei power PC. È un progetto estremamente interessante in quanto non solo pieno di tecnologia ma anche di stile, così come Huawei ha abituato i propri consumatori. Quindi è un dispositivo estremamente funzionale, ricco di tecnologia, ricco di accessori, quali il Mate Dock, la Mate Pen, una tastiera che diventa anche una custodia protettiva in un contenuto di tecnologia molto molto evoluto. Questo prodotto non è immediatamente disponibile sul mercato, arriverà più avanti nel corso dell'anno, probabilmente intorno all'estate? È un prodotto che arriverà in Italia per l'estate. E la scelta di montare Windows 10, insomma, lo pone come un vero e proprio personal computer, non è un semplice tablet? No, assolutamente sì, si può usare in entrambi i modi ma chiaramente è un oggetto estremamente potente, flessibile, che si presta sia a un tipo di uso più consumer che più business, quindi incontra effettivamente le tue necessità. Molte grazie, a presto! Grazie a voi!